buongiorno a tutti siete sul canale dell'idrallocca24 vi spiegherò come caricare l'acqua a queste caldaie dell'energas che di solito monta l'italgas ok allora per visualizzare la pressione si visualizza qua davanti c'è scritto 1,6 bar e per caricarla andate su questo pomello blu e lo girate in senso orario ok come cambiare anche le fasce orarie le fasce orarie potete fare attraverso il vostro prono termostato ma per cambiare la temperatura della caldaia del riscaldamento o dell'acqua sanitaria si interagisce su questi bussanti qua facendo così la prima che dà è la temperatura del riscaldamento che la puoi modificare con questa rotella e poi se si schiaccia la seconda volta si può interagire con questa rotella qua per abbassare o alzare la temperatura dell'acqua sanitaria si lascia stare per un po' e tra un po' dovrebbe tornare in modalità stand by come sta facendo adesso qui abbiamo le varie modalità la modalità schiacciando la modalità 1 disattiviamo il riscaldamento e la siamo in sanitario quindi questa possibilità di escludere il riscaldamento è funzionale solo in sanitario in qualsiasi problematica si potrebbe presentare si può schiacciare a reset infatti qua come dice nelle varie targhette qua che dovrebbe lasciare attaccate c'è una piccola spiegazione rapida per poter interagire con la caldaia al di là di queste problematiche si può soltanto creare una situazione di chiamare il tecnico quindi vi saluto il video è finito molto breve perché il breve conciso possiamo di nuovo mettere un like sul mio canale dell'idrequarka24 buona giornata a tutti